Il Pozzo di Giacobbe, è una meravigliosa piscina naturale, la cui bellezza, è pari alla sua pericolosità. Profonda circa 10 metri, e larga 4, è considerata una tra le sorgenti più pericolose al mondo. Attraverso la sua bocca, ogni minuto scorrono migliaia di litri d'acqua, che alimentano il fiume Cipres Creek. È uno dei luoghi simbolo della valle di Wimberley, ed è una delle grotte sottomarine, più lunghe del Texas. Dall'apertura, nel letto del torrente, la grotta scende verticalmente per una decina di metri, per poi proseguire attraverso una serie di camere separate da vicoli stretti, fino a raggiungere una profondità che va oltre i 40 metri. Le zone più profonde, sono però esplorabili solo da sub-professionisti. Infatti, nel corso degli anni, otto persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere i luoghi più impervi. A circa 30 metri di profondità, si trova la prima camera, che, con i raggi di sole, che penetrano nell'acqua cristallina, diventa una zona luminosa, dove crescono numerose alghe marine. La seconda camera, è un lungo imbuto lungo 25 metri, al termine del quale c'è una piccola apertura verso la terza camera. Essa è una piccola stanza, con un pavimento di ghiaia instabile. Il passaggio nella quarta camera invece, è molto stretto. I pochi che hanno visto la quarta sezione, dicono che è una grotta vergine, con fantastiche formazioni calcaree, e senza piaia. Questo luogo affascinante e misterioso, ha purtroppo causato un tributo di vite umane. Ben otto sub-esperti, sono rimasti vittime di questa cavità, che in profondità si trasforma in una serie di angusti cuniculi mai esplorati fino in fondo. Per questo, nel 1980, al fine di evitare altri incidenti, l'accesso al Pozzo di Giacobbe era stato bloccato. Ma le misure di sicurezza, non sono bastate, e i subacquei più intraprendenti e curiosi, non si sono mai fermati. Ad oggi, il Pozzo di Giacobbe, simbolo di generazioni di americani, è possibile visitarlo grazie alle guide specializzate. Un luogo incantevole e misterioso, per chi vuole ammirare numerose specie acquatiche e una natura molto florida. Grazie a tutti.